La città di solito e a volte dietro ho anche uno spazio per un parcheggio perché la difficoltà è data sia dalla funzione ciclistica ma anche da altre funzioni tipo la birra la sera, queste robe, altre funzioni, però la prevalente è quella che è la prima. Quindi dobbiamo avere una strada posteriore all'estero.